prendi soldi e scappa era un vecchio film di Woody Allen che, parafrasandolo, potremmo applicarlo al prossimo obiettivo del Napoli la Coppa Italia prendi la Coppa e scappa perché il Napoli ha la possibilità dai, su due partite del 14 e il 17 di ottenere un obiettivo che ci fa vincere qualcosa almeno da qualche anno a questa parte quindi Coppa Italia, il Napoli può vincerla e poi scappa scappa e dice perché tiene scappa? sì perché cioè tiene della cara a cara questa Coppa perché costigliari di luna ora la gente è convinta che vanno al bar sprizza, sprazza, spruzza e si divertono e fanno bene però ovviamente tutti vorrebbero fare questo però parliamoci chiaramente pensare che il campionato questa ripresa di campionato non abbia un positivo dei casi positivi è impossibile quindi nel momento in cui ci sa il positivo poi cominciano a cambiare le regole forse se fanno i playoff invece tu in tre settimane fai due partitini vinciti questa Coppa basta e sta in grazia di quindi diventa l'obiettivo primario del Napoli la Coppa Italia vittoria con l'Inter noi passiamo col vantaggio però partiamo col vantaggio ma però giochiamo in casa ma senza pubblico quindi quindi lo svantaggio dell'Inter noi abbiamo un gol di vantaggio però l'Inter giocando fuori casa qualsiasi gol che fa insomma c'è il problema del gol doppio quindi pensare che l'Inter non segni è una cosa molto difficile quindi bisogna stare molto attenti a parte il fatto che secondo me queste partite parlo di queste di quelle altre insomma saranno partite un po' anomale non saranno partite con la massima attenzione cioè errori se ne vedranno se non saranno partite con molti gol perché in questi tre mesi la deconcentrazione il fatto che non ci sia pubblico eccetera farà da padrone noi speriamo che però Ringio possa prendere con la sua carica può trasmettere la sua carica per cui era famoso trasmettere le giocature se riesce Ringio a trasmettere la carica vinciamo la Coppa Italia e ce la portiamo a casa poi si parte per il suo campionato che però ovviamente ripeto è molto così aleatorio vedremo vediamo se si firmano le cose non sono così facili come sembrano però ipotizzando che tutto vada avanti tranquillamente che il campionato poi vada avanti abbiamo sempre la possibilità a differenza di quanto avevamo prima in cui avevamo un'Atalanta che oramai era era imprendibile ora potrebbe darsi che questa Atalanta che prima vinceva 10 gol 15 gol 10 gol 5 gol 4 gol 7 gol era molto concentrata era imbattibile adesso siccome qua parliamo soprattutto di un problema di testa dispiace che tra l'altro l'Atalanta e anche insomma i Bergamaschi hanno ottenuto hanno purtroppo subito quello che hanno subito e comunque questa è la situazione l'Atalanta potrebbe essere deconcentrazione probabilmente non avrà la stessa concentrazione che aveva prima il Napoli siamo là insomma se riesce a trovare a ritrovare un po' la concentrazione degli ultimi tempi perché poi dopo un po' di fatica insomma Gattuso era riuscito a dare la quadratura del cerchio la squadra insomma sembrava molto più convinta quindi se riesce se si riesce a trovare quella concentrazione l'Atalanta sicuramente sicuramente non avrà la stessa concentrazione e visto non si sa mai e potremmo fare questo questo tentativo per arrivare al quarto posto insomma siamo siamo ottimisti dai siamo ottimisti in questo senso poi non si è capita ancora la Champions League che cosa poi vedremo un po' che cosa succederà però ripeto quel mese una stagione certo non è tanto bello farsi partita così insomma però se si riesce a vincere questa Coppa Italia poi alla fine nel tempo ci sarà questa Coppa Italia nell'album no d'oro quindi vediamo un pochettino se questo è possibile per quanto riguarda l'epidemia per me siamo siamo ancora lontani dal dal risolvere il problema la gente è convinta perché chiaramente gli italiani hanno sempre una una visione parziale ma qua oramai così non si rendono conto che questa cosa è mondiale e io sono attento a vedere cosa succede perché questa mi sembra la cosa logica nei paesi dove era stata riaperta qualche settimana prima tutti i paesi sono tutti risaliti quindi alcuni hanno chiuso vedi come è capitato in Corea altri non possono richiudere perché dico come facciamo metti gli stati americani gli stati americani che è successo hanno chiuso tutti gli stati americani ma poi parlo degli Stati Uniti sai tutti i governatori hanno chiuso poi non volevano chiudere chi protestava chi faceva poi comunque hanno aperto intanto stanno salendo a dismisura direi ma non possono richiudere quindi stanno in mezzo ci sono alcuni stati veramente inguaiati vedi la California la California che sembrava se l'era scansata all'inizio perché aveva chiuso sembrava andare tranquillo oramai la California il Texas stanno esplodendo e poi altri stati insomma sicuramente questo sarà un grosso problema che rimarrà per lungo tempo per quanto riguarda gli Stati Uniti ma in Europa invece aprono la Svezia ovviamente è il paese al mondo con più morti morti dovuti in proporzione alla popolazione perché ovviamente uno che non ha chiuso poi voleva vedere che cosa succede oraventemente quello continua a salire la curva i morti aumentano altri paesi sì si sottraga ecco ora si aprono le frontiere Germania cosa l'Austria non fate venire gli italiani ma non è che cioè il problema non è tanto l'Austria un paese eccetera l'estate porterà sicuramente a un a un turbiglion di passaggi di movimenti eccetera e così e quindi avremo sicuramente un ritorno della dell'infezione diciamo d'altro canto quando si parla di seconda ondata non è che si parla di seconda ondata come diceva come fosse un fatto che dipende dal tempo da qualcuno non è altro che il rilassarsi da parte delle persone che prima stavano più attenti poi piano mi diceva boom ora mi hanno risolto e tu stai chiedendo che fai stasera ambriaca e cose fanno bene però intanto moltiplica questo per milioni di persone e vedrai che improvvisamente schizzaranno da un giorno a un altro questo è così è un lavorio nascosto di questa malattia non è che dice è come quando in Lombardia che era successo a un certo punto è stato il primo caso poi dopo sono venuto una pressa rata con una velocità disarmante quindi praticamente la situazione è questa per quanto riguarda il calcio il calcio sarà condizionato da questa situazione io mi sembra difficile che non ci siano dei casi positivi vedremo comunque sicuramente il Napoli ha la possibilità di battere l'Inter e la Juventus o il Milan perché qua sono partite che non si sa chi è vincitore non si sa niente ecco diciamo quindi il Napoli potrà sicuramente se la può fare e vincimo questa coppia facciamo questa cosa poi si vedrà per me purtroppo le cose saranno ancora lunghe da qui almeno in Inghilterra per il momento si esce senza mascherino perché qua in Inghilterra le mascherine non si portano eccetera però si va lentamente così però è lunga ancora la cosa è lunga e poi ancora non si sa niente per quanto mi riguarda pensiamo vince la Coppa Italia e dopo concentriamoci sul quarto posto perché il quarto posto è possibile è chiaro l'Atalanta se ne scende Napoli vince il quarto posto poi che succede? si sa la Champions League Barcellona Barcellona si vince basta discutere Barcellona si vince si vince anno straordinario partite con Roccamboleschi Napoli vincitore della Coppa Champions League quindi Champions League quarto posto Coppa Italia e basta buonanotte partite partite